Nove anni, Avery. Nove anni! Mi dispiace tanto, Stan. Capisco che la notizia ti faccia star male, ma vuoi passare questi nove anni a preoccuparti di quanto poco tempo ti rimane? No! Ne vorrei passare duecento a preoccuparmi di quanto poco tempo mi rimane. Ma tu stai facendo una vita bellissima, ti preoccupi troppo. Sei sicura, Avery? Sei sicura? Sì. Oh, ero convinto che ti avrei fatto cambiare idea grazie alla mia enfasi. Sei sicuro, Stan? Sei sicuro? Questa si chiama enfasi. Sei fantastica. Farai grandi cose nella vita per le quali sarai ricordata, ma io invece... Vorresti lasciare una traccia nella storia? Sì. Voglio fare qualcosa che vivrà oltre la mia dipartita. Ma cosa? Beh, questa macchia sulla mochetta credo che rimarrà qui in eterno. E non pensare che non ne sia orgoglioso. Non so perché, ma non mi sembra abbastanza. Perché non provi a dipingere come ho fatto io? Tanti pittori vengono ricordati per la loro arte. Non credo che riuscirei a fare di meglio di quello che ho fatto sulla tua mochetta. Ma gli altri cani non si preoccupano di quanto tempo gli rimane. Loro non sono come te. Tu sei l'unico cane che parla. Un momento, ci sono. È questa la traccia che lascerò. Molto bene. Stanno dormendo tutti. È ora di registrare il mio messaggio per le future generazioni. Oh, ciao, mondo. Non ti avevo visto. Io sono Stan. Il primo cane parlante mai esistito. Bene. Se avete finito tutti di dare di matto per via del fatto che sono il primo cane parlante del mondo, ho voluto fare questo delfino per... Un momento. Ho detto delfino invece di filmino? No, non posso credere di essermi sbagliato. Delfino? Come faccio il delfino io? La mia filosofia di vita può essere riassunta in queste parole. Come stavo dicendo, la mia filosofia di vita può... Scusatemi, vado a trasformare questo miau in un ciao.